Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni, parliamo questa sera di politica e di amministrazione in una puntata che dedichiamo alla città di Chieti, in quanto abbiamo ospite il primo cittadino Diego Ferrara che ha raccolto il nostro invito e quindi sarà qui nei nostri studi. Lo salutiamo, buonasera Sindaco. Buonasera a tutti voi. Questa trasmissione è realizzata in sinergia con il quotidiano Il Centro e quindi saluto e ringrazio la collega Rianna Iannotti. Buonasera Rianna. Buonasera ai telespettatori. Che segue da vicino le vicende della comune di Chieti, che sono vicende che Arianna fanno scrivere, noi giornalisti fanno realizzare servizi in televisione perché le ultime vicende sono interessanti, un po' turbolente ma comunque di grande rilievo per l'opinione pubblica, tutto ciò che sta accadendo a Chieti. Allora io lascerò soprattutto ad Arianna il compito, l'onore e l'onore di fare molte domande al Sindaco sulle questioni che le segue più da vicino per i lettori del quotidiano Il Centro. Io per i miei telespettatori mi limiterò a fare delle domande un po' più generiche legate innanzitutto all'introduzione, in questo caso alla situazione un po' più in generale del dissesto che il comune vive, non è la prima volta nella sua storia anche recente, il comune di Chieti ha una situazione finanziaria che ha portato a queste determinazioni e ha portato a queste conseguenze. Si parla molto Sindaco di dissesto in termini politici, in termini di scambi di accuse, di responsabilità anche con conseguenze a volte che vengono minacciate oppure realmente portate direttamente sulla carta bollata per quel che riguarda gli aspetti giuridici, ma noi vogliamo capire, proprio interpretando le richieste dei cittadini di Chieti, quali conseguenze concrete questa situazione può determinare per loro, sta determinando per loro e più che il perché il comune è arrivato in questa situazione è come il comune gestisce questa difficoltà finanziaria, questa difficoltà che poi si ripercuote inevitabilmente anche su tutte le altre questioni di cui parleremo questa sera Sindaco. Allora, la mia risposta ovviamente è conseguentemente a una domanda complessa e una risposta altrettanto complessa. Un dissesto finanziario di un ente locale come il comune non è mai una bella cosa, non è mai un bel traguardo, però come ho più volte detto sui mezzi di stampa e in altre interviste non deve essere vissuta dai cittadini come una sciagura e come una situazione senza appello e senza un futuro per la città. Noi abbiamo, c'è la mia amministrazione quando parlo di noi non è un plurale maiestatis ma mi piace parlare della mia amministrazione in generale, abbiamo tentato di andare avanti, di non cedere alla tentazione di andare in dissesto appena insediati perché credevamo fermamente di poter dare una maggiore speranza alla nostra città, tant'è che avevamo con gli uffici competenti creato e redatto un piano di risanamento di predissesto che purtroppo ci è stata bocciata, questo lo avevamo comunicato alla Corte dei Conti nel 2021, nella primavera del 2021, ma non è bastato perché la Corte dei Conti nel maggio del 2023 ci dicesse che i nostri programmi, i nostri tentativi non avrebbero portato a nessuna utilità, per cui siamo andati in dissesto finanziario, lo abbiamo sancito il deliberato il 22 giugno del 2023, per la città ovviamente si tratterà di una diminuzione o di un sacrificio sui servizi che stiamo cercando comunque di lenire e di smussare, un aumento ovviamente delle imposte comunali, però a tutto ciò c'è questo elemento di speranza, questo elemento importante secondo me di crescita che siamo stati fortunati in questo frattempo ad intercettare ben 60 milioni da parte del PNRR con cui porteremo a termine entro i prossimi due anni, due anni e mezzo degli importantissimi progetti strutturali per la città di Chieti che renderanno una città più accogliente, una città più vivibile, una città più condivisibile e quindi penso che riusciremo a compensare queste negatività che… Però Sindaco io le chiedo, quando le chiedo quali conseguenze concrete si riversano sui cittadini, ci saranno aumenti di tasse, aumenti di tariffe necessariamente a causa di questo dissesto? Assolutamente sì, necessariamente ci saranno degli aumenti, saranno sicuramente avvertiti dai cittadini anche se in misura minore rispetto ad altre città perché le nostre tariffe in predissesto erano già votate ad essere alte, quindi questo sicuramente. Per quanto riguarda i servizi stiamo cercando di dare fondo a tutte le nostre riserve finanziarie ed economiche per evitare che si ripercuotano negativamente sui cittadini. Bisogna tenere conto che uno dei mandati, delle linee di mandato della nostra amministrazione, cioè quella dell'attenzione sul sociale, questa linea di mandato la stiamo osservando nel migliore dei modi. Siamo riusciti a partire, a rivitalizzare il cosiddetto pronto intervento sociale già dal 2020, dal momento del nostro insediamento e con questi soldi del pronto intervento sociale noi abbiamo sostenuto durante il lockdown ben 400 famiglie con Isee molto basso, quindi bisognose, povere, pagando loro gli affitti, alcune utenze domestiche, pagando i buoni libro, dei pacchi spesa, abbiamo anche pagato i centri estivi ricreativi sia per bambini di famiglie povere che di ragazzi con disabilità psicofisiche, quindi diciamo che sul sociale ci siamo battuti e ci batteremo proprio attraverso le risorse sia del PNRR che quelle del fondo di povertà della regione, quindi almeno sotto questo punto di vista l'impatto sui servizi non dovrebbe essere sentito tanto mordente. Bene, io la ringrazio per la franchezza perché non tutti rispondono in maniera così chiara e categorica a situazioni che sono di fatto, sono lì e quindi vanno affrontate da chiunque si trovi ad amministrare la città. Arianna. Sì Carmine, il dissesto non è solo portare l'ente in una situazione economica, finanziaria molto molto difficile, ma anche una difficoltà dal punto di vista organizzativo, tanto è vero che è arrivato l'OSL, l'organismo straordinario di liquidazione e anche un dover fare dei bilanci in maniera diversa, infatti il bilancio si chiama bilancio stabilmente riequilibrato. Vorrei parlare proprio di questo primo bilancio dell'era dissesto che secondo l'opposizione è arrivato troppo tardi, talmente tardi che si rischierebbe lo scioglimento del Consiglio Comunale, è così? No, non è così, allora intanto come l'ha definito giustamente il bilancio previsionale stabilmente riequilibrato è un bilancio perfettamente stabilizzato, senza i debiti del passato si può spendere tanto quanto siano e saranno le entrate, come in qualunque famiglia normale si faccia durante tutti i mesi. Ora questo bilancio, la bozza di bilancio approvata in giunta è stata spedita al Ministero entro il 2 di novembre, quindi entro i tempi prefissati e nella lettera di accompagnamento al Ministero è stata anche stabilita la data in cui sarebbe passato in Consiglio Comunale, fondamentalmente non c'è quindi inerzia, nel senso che sarebbe stata inerzia se noi dopo, entro il 2 novembre o appena il 2 di novembre non avessimo fatto assolutamente nulla, saremmo stati e rimasti sordi alle indicazioni e ai solleciti del Ministero dell'Interno, ciò non è stato, il Consiglio Comunale è stato effettuato il 26-27 di novembre e non ci è stata fatta nessuna diffida da parte del Prefetto né a tutt'oggi dopo la spedizione della bozza al Ministero, ci è stato mosso dal Ministero stesso nessun rimprovero e nessuna recriminazione, quindi diciamo che le lamentele e le diffide fatte dall'opposizione, oltre che essere strumentali se mi permette sono francamente controproducenti nei confronti della città, mi sono chiesto quando leggevo le loro critiche sui giornali, ma queste persone vogliono bene a Chieti, vogliono che il bilancio stabilmente riequilibrato vada in porto e si hanno la possibilità a questa città di riemergene o la vogliono affossare solo ed esclusivamente per motivi elettoralistici? Io la risposta ce l'ho, però la lascio ovviamente ai cittadini. Va bene, allora prendiamo un altro argomento, anche questo un po' spinoso, la mensa scolastica, so che avete fatto di tutto appena vi siete insediati per un nuovo appalto mensa, per dare ai bambini delle scuole passi i migliori possibili, però poi resta che attualmente non c'è ancora mensa nelle scuole di Chieti. Ve lo spiego in pochissime parole perché forse la dottoressa Arianna sa che mi piace essere sintetico e non girare intorno al dito e intorno al problema. Allora il primo dicembre del 2020, quindi un mese e mezzo dopo il nostro insediamento, abbiamo bandito una gara mensa sulla quale immediatamente dopo si è stabilito un contenzioso per dei ricorsi, come spesso avviene. Bene, nell'emore di questo contenzioso abbiamo affidato alla ditta, la ditta che aveva avuto l'appalto precedente, di continuare nell'emore della verifica di questo complesso condenzioso. Verifica e sentenza da parte della Corte del Consiglio di Stato, scusatemi, che è avvenuta il 26 giugno del 2023. L'Aladisa che aveva avuto questa proroga, in pratica lavorava con un prezzario fissato all'appalto precedente, ante Covid, che era un costo, un prezzo superiore a quello di mercato. Pertanto la nostra dirigente alla ripresa dell'anno scolastico ad ottobre del 2023 ha deciso, concordemente con l'organismo politico, di interrompere e decidere la gara. A quel punto ci siamo posti il dubbio come poter portare avanti il servizio mensa fino a la fine del 2023 e tutto il 2024, fino a settembre del 2024, quando alla ripresa dell'attività scolastica avremo una ditta per la quale, non per la quale ditta perché l'abbiamo già in mente, ma voglio dire che stiamo preparando una gara per un affidamento in concessione e chi la vincerà poi porterà avanti il servizio mensa dal settembre 2024 per il successivo. Nel frangente abbiamo cercato di trovare diverse soluzioni e in questo senso coadiuvati, sollecitati giustamente e coadiuvati anche con i docenti, con le direttrici scolastiche e con i rappresentanti dei genitori. Avevamo pensato a dei gruppi di acquisto solidale che era una soluzione che pur avendo trovato il riscontro positivo da parte del Sian che è l'organo della ASL sull'igiene e profilassi, si è rilevata non fattibile perché troppo complessa come procedura da un punto di vista burocratico e amministrativo e conseguentemente non accettabile da parte dell'ufficio provinciale e regionale della pubblica istruzione. Pertanto abbiamo approvato in Consiglio Comunale un emendamento il 18 dicembre del 2023 per indire una gara per un affidamento temporaneo, per il momento per due mesi, ad una ditta esterna che possa traghettare questo periodo per cercare di trovare ulteriori fondi, poi per arrivare fino a fine anno scolastico. Le date sono queste, praticamente il 18 dicembre abbiamo fatto questo emendamento in Consiglio Comunale, il 21 si è proceduta ad indire la gara per l'affidamento temporaneo, è stato pubblicato il 27 dicembre con un avviso e le manifestazioni di interesse a scadenza 5 gennaio. Sono arrivate tre offerte, tre proposte e adesso avranno, praticamente sono stati inoltrati gli inviti e queste persone hanno, queste ditte hanno fino al 30 gennaio, tempo per presentare il loro progetto e immediatamente dopo il vincitore o la vincitrice di questa gara comincerà alla somministrazione. Quindi noi non siamo rimasti inerti, deve finire questa pantomima, questa stigmatizzazione dell'amministrazione comunale che è stata inerte, che è stata ferma nei confronti di questo problema e deve finire anche questa attività di sobillazione da parte di certi elementi dell'opposizione che non fanno il bene della cittadinanza, perché questo significa oltre che dare notizie contorte e distorte dalla realtà, anche una sobillazione secondo me, io non sono un legale, ma anche all'odio sociale, perché ciò significa che io vengo a diminuire le prerogative e i diritti delle persone, quando noi stiamo cercando in una fase di dissesto economico, cercando di mettere le pezze a tutto, lavorando giorno e notte. Bene, mi pare che ci sia stata un'ampia spiegazione su questo punto, ci sono tante, credo, Arianna, le questioni sul piatto anche della vita amministrativa quotidiana. Sì, vogliamo parlare di sanità, che è un argomento che il sindaco conosce molto molto bene, perché è un medico di base, in pensione, anche se spesso l'abbiamo visto riprendere il camice. Sono sempre, il medico non va mai in pensione. E lui tenta di curare la città come può. Come può. Però, insomma, a livello di sanità sono state molte polemiche, molti dissidi anche con i vertici della ASL, lei tra l'altro è anche presidente del comitato ristretto dei sindaci della ASL, quindi significa che è a capo di tutti i sindaci della provincia per quanto riguarda la sanità e poi c'è anche un comitato ristretto che appunto lei presiede. insomma, ci sono diverse problematiche, sia per quanto riguarda l'ospedale di Chieti e sia per quanto riguarda la sanità territoriale. Quindi parliamo di distretto sanitario che a Chietiscalo è stato chiuso ormai da quattro anni, parliamo di questa sorta di mini distretto, noi lo chiamiamo così anche se il termine è sbagliato perché si tratta di una casa di comunità che dovrebbe nascere al Peter Pan, che è un vecchio asilo nido che la precedente amministrazione comunale ha chiuso e lei ha venduto alla ASL, ma questa vendita non si può perfezionare perché c'è un problema sulla proprietà del terreno, pare addirittura che ci siano dei documenti che sono spariti, che non si ritrovano più in comune, come se ne esce? Allora, intanto voglio fare una premessa chiarificatrice che dopo la chiusura più o meno giustificata nel 2019 del distretto di base di via Delicchio, certamente non era il comune, questo lo voglio sottolineare con forza affinché chi ascoltare mi deve sentire lo senta, non era compito del comune trovare un altro locale per il distretto di base. Parliamo di una struttura dell'ASL che l'ASL ha chiuso. L'ASL aveva anche promesso di riaprire in breve tempo, sono passati 4 anni. in breve tempo e aveva preso accordi, mi ricordo, con le ferrovie dello Stato senza neanche sapere che sull'immobile dove voleva ristrutturare un distretto di base, ovvero sia una parte della stazione ferroviaria di Viale Marconi a Chitiscalo, ci fosse anche l'interesse della sovrintendenza alle belle arti. Ma lasciamo parte questo, c'è stata un'interlocuzione con Ferrovie dello Stato che si è prolungata enormemente e a me come sindaco non ne ho avuto neanche comunicazione di come sia avvenuta. Alla fine spinto proprio dalla necessità di ridare un servizio alla cittadinanza di Chitiscalo che vorrei ricordare è addirittura ancora più numerosa di quando non lo sia Chieti sul Colle e ho detto alla ASL vi aiutiamo a trovare una sede e la nostra attenzione, l'attenzione della mia amministrazione si era concentrata su l'ex asilo Peter Pan. Durante le interlocuzioni con la ASL che è venuta con i suoi tecnici a fare dei sopralluoghi trovandola adatta alla ristrutturazione come casa di comunità SPOC che in pratica sarebbe un poliambulatorio di medici di medicina generale, di specialisti aventi anche all'interno un centro prelievi e una derivazione del CUP, quindi un piccolo distretto di base che comunque sarebbe servito di partenza, cioè si parte dal concetto che è meglio poco che niente. Durante queste interlocuzioni veniamo a scoprire di essere che il comune proprietario dello stabile non era proprietario da 42 anni, potrebbe non essere proprietario da 42 anni del suolo su cui questo palazzo insiste. Non ci stupiamo di questo in Italia? No, non ci stupiamo di questo e suppongo che non solo a Chieti ma in ogni città d'Italia se si volesse andare a cercare le carte molti immobili pubblici potrebbero avere lo stesso problema. Bene, dal Catasto veniamo a sapere che questo terreno appartiene all'industria tra filerie meridionali con le quali iniziamo una interlocuzione tenendo conto che per loro stessa missione neanche loro sapevano di essere proprietari di quel terreno, tant'è che non avevano pagato… E ci stupiamo di questo in Italia? No, tant'è che… Glielo hanno detto loro in pratica che erano… Ma ce l'hanno detto loro, che l'abbiamo saputo dai giornali, l'abbiamo saputo e non avevano pagato neanche gli IMU per 42 anni, bene ci vengono a chiedere più di 400 mila Euro per quel terreno, cose che un comune in dissesto, ripeto, non può permettersi, è inutile farle chiacchiere, un comune in dissesto non può permettersi di pagare quella cifra per un terreno su cui insiste un fabbricato di proprietà. Allora, parliamo con la ASL e quest'estate firmiamo io, il direttore generale e i funzionari del comune e della ASL un protocollo, un comodato, durso, gratuito, pluridecennale con la ASL che ha permesso alla ASL di ottenere il finanziamento dal PNRR, un finanziamento corrispondente per il distretto di base appunto del Peter Pan di 810 mila Euro diviso in 260 mila Euro per l'acquisto, 358 mila Euro per i lavori, 50 mila Euro per gli arredi. Questo comodato durso, chiunque può andare e cliccare su internet, il comodato durso gratuito non solo ti dà la possibilità appunto di accedere al finanziamento e quindi ha dato la possibilità alla ASL di prendere i soldi di questo finanziamento, ma con il consenso del proprietario ti dà la possibilità al concordatario di poter fare i lavori di ristrutturazione. Bene, il dottor Shell, il direttore generale si è, posso usare questo termine, intestardito a dire che vuole, che non farà il passo di iniziare a fare i lavori se non ha la proprietà completa di tutto il sito. Noi ci stiamo muovendo sulla via di risolvere da un punto di vista notarile, ma è un problema tra noi e le trafilerie, non tra noi e la ASL, questo problema. La ASL, il dottor Shell e non la politica, guardate bene, non la politica, c'è il dottor Shell che sta facendo politica, il dottor Shell ci dice se non mi risolvete subito il problema io probabilmente dirotterò questi soldi di investimento su Chiti, li dirotterò altrove. Che devo dire, devo continuare? Mi ha dato un'ultima... Io direi che possiamo... Lei ha raccontato una storia che avrà sicuramente un seguito, immagino. Guardi, il mio seguito è questo. Abbiamo già ascoltato alcuni paradossi molto kafkiani in questa vicenda, adesso vedremo che succederà, può succedere di tutto a questo punto, no? Allora, il mio seguito è questo, se mi permette, noi continueremo, tra l'altro noi in tutti questi mesi abbiamo ricercato tutti i documenti possibili a degli espropri fatti negli anni a fine 70, perché corrisponde a quell'epoca, 77-78, gli espropri di quella zona. Guarda caso sono stati trovati, l'ultima carta che abbiamo trovato è il pagamento di ben 7 milioni di lire negli anni, inizi anni 80, a una ditta di Chieti per l'esproprio, il pagamento dell'esproprio di un pezzo di terra di 140 metri che è di accesso al... però chissà per quale motivo non sono stati trovati nei nostri archivi, manca proprio il fascicolo della compravendita del terreno del Peter Pan, chissà per quale motivo. I misteri diventano sempre più fitti. Sì, però quello che voglio dire è che la ASL deve avere un atteggiamento più riguardoso nei confronti non del sindaco, ma della città di Chieti, perché noi ci siamo fatti in quattro per trovare questo stabile, glielo sto dando, io non capisco il motivo per cui c'è questo accanimento quando la legge attraverso il comodato d'uso permette alla ASL già di cominciare i lavori. Bene, noi ci fermiamo perché insomma siamo andati un po' oltre, ma questa è una vicenda credo che abbia interessato anche i nostri telespettatori per come è stata raccontata e ci fermiamo perché appunto incombe la pubblicità, recupereremo più rapidamente con le prossime domande in linea alla regia. Siamo tornati in studio, sindaco, allora un'altra vicenda che vorrei introdurre stavolta io è quella relativa al raddoppio, al potenziamento del tratto ferroviario Pescara-Roma nel comune di Chieti. Avete fatto ricorso al TAR insieme alle associazioni e ai comitati e l'avete perso, adesso c'è stata una commissione proprio nei giorni scorsi, ne abbiamo intervistato per il nostro Tg anche Ginefra che sta seguendo un po' più da vicino questa vicenda in Consiglio Comunale, si diceva che c'è un po' di dubbio rispetto, c'è una situazione di dubbio rispetto all'idea di insistere al Consiglio di Stato contro questo progetto, ma per ragioni anche finanziare perché insomma il ricorso al Consiglio di Stato costa tantissimo, ma ci sono tanti cittadini e proprietari che sarebbero disposti anche a sostenere queste spese. Ma qual è il principio che voi contestate di questo progetto? Allora, su questo progetto, io questo progetto l'ho vissuto ovviamente in prima persona perché è arrivato sul nostro tavolo già nel 2021. Noi non abbiamo mai contestato il progetto in sé per sé, ovvero sia la velocizzazione della linea Pescara-Roma con il raddoppio del binario, abbiamo contestato l'impatto ambientale e antropomorfico e antropologico a livello di due quartieri popolosissimi di Chieti, Chietiscalo e Brecciarola, che sono interessati da questo progetto per due diversi tipi di lotto. Per quanto riguarda Brecciarola, in pratica la ferrovia dividerebbe in due, spaccherebbe in due l'abitato di questo popoloso quartiere e creerebbe una sessantina di espropri per abbattimento di case, manufatti e piccole aziende. Potete immaginare anche lo sconcerto degli abitanti con i quali il Comune insieme con il Comitato Confer si è sempre confrontato e con i quali abbiamo sempre dialogato. Bene, noi abbiamo mantenuto ferma la nostra volontà di poter accettare il progetto attraverso l'accettamento da parte di Ferrovie dello Stato di una variante, ovvero sia dello spostamento della linea ferroviaria un po' più a nord di Brecciarola che andasse poi declinando verso l'interporto. I costi aggiuntivi di questa variante non erano eccessivi rispetto ai fondi messi insieme per l'intero progetto. Alla fine, dopo innumerevoli confronti e dibattiti pubblici, alla conferenza dei servizi ci viene detto no, la variante che voi presentate, noi non solo come Chieti ma anche il paese di Manoppello, non può andare bene perché non sarebbe in linea con i piani di esondazione del fiume Pescara, cosa che noi avevamo confutato con un nostro lavoro ingegneristico che aveva invece dimostrato che nei cento anni successivi al momento della fotografia del momento non ci sarebbe stata nessun tipo di esondazione. Bene, noi abbiamo fatto appunto ricorso, lo abbiamo perso, ma non demordiamo dalla possibilità di indurre ancora Ferrovie dello Stato a modificare il suo atteggiamento intransigente. Tra l'altro, come sapete, a questo progetto sono stati sottratti i fondi del PNRR e quindi attualmente non sappiamo neanche questo lotto 2 che interessa Brecciarola chi dovrebbe pagarlo, se RFI o qualche altro fondo nazionale o regionale. Quindi noi rimaniamo del fatto che siamo contrari al progetto ferroviario che distrugga la morfologia di Brecciarola. Per quanto riguarda il ricorso al Consiglio di Stato, io mi fido della mia avvocatura legale, quindi dei miei legali del Comune, che ritengono incerto, non consigliano sia per l'esito proprio giudiziale e sia per i costi in caso di soccombenza. Quindi non si fa ricorso al Consiglio di Stato? Allora, in questo momento non abbiamo ancora deciso perché ci sono riunioni della Commissione Ferrovia, delle riunioni appunto consigliari. Il mio pensiero è questo, che se non ci sono, se i nostri legali, di cui ripeto io mi fido molto, mi dicono che non ci sono gli estremi per farlo, non mi posso avventurare in un ricorso che possa portare a decine di migliaia di euro di penale. Arianna. Va bene, allora cambiamo argomento e andiamo un po' sulla tenuta politica della maggioranza. A un certo punto, Sindaco, c'è stata una sorta di fuggi-fuggi dalla Giunta. Due assessori, tra l'altro due ottimi assessori, perché due assessori tecnici, l'assessore Raimondi e l'assessore Maretti, hanno deciso di andarsene. Hanno detto che era a causa di motivi personali, problemi di lavoro. Tutte e due lavorano in università, sono docenti universitari, uno è anche avvocato. Insomma, si capisce. Però è abbastanza strano che da una Giunta si faccia a gara per andare via, quando invece qualche anno prima era a gara per entrarci in questa Giunta. Guardi, io le rispondo molto sinceramente. Questa ricostruzione, che è una ricostruzione, per l'amor di Dio, non pregiudizievole e malevola da parte sua né da parte di qualunque giornalista o osservatore esterno ha approcciato agli eventi ultimi della mia amministrazione, è completamente fuori binario. Le dimissioni dell'avvocato Raimondi e della professoressa Maretti mi erano state, non dico notificate, ma comunque annunciate da mesi e mesi per motivi veramente squisitamente personali. L'avvocato Raimondi ha uno studio privato fiorente come lavoro, ha un'attività universitaria altrettanto impegnativa ed era in procinto, ed è stato questo il motivo scatenante delle sue dimissioni in procinto di assumere un incarico prestigioso a livello politico a Roma, che lo porta per ben tre giorni a settimana fuori della nostra città e conseguentemente il suo amor proprio ha fatto capire che non poteva seguire l'assessorato come avrebbe voluto. La stessa cosa per la dottoressa Maramaretti che era in part time come assessore ed era diventata durante questo periodo ordinaria universitaria e quindi aveva sempre meno tempo, quindi le ragioni sono state assolutamente personali. Sindaco, però su questo io voglio dire, è chiaro, su queste due persone che anche dal punto di vista morale hanno avuto un comportamento anche nei suoi confronti molto rispettoso, tutti quanti mettiamo sicuramente la mano sul fuoco, però è indubbio che a Chieti, soprattutto quando si è cominciato a parlare di dissesto, quindi quando si parla di dissesto si comincia a parlare anche di bilanci, si comincia a parlare di corte dei conti, questo fuggifuggi che in qualche modo evocava la collega Iannotti, in qualche modo è stato percepito negli atteggiamenti in Consiglio Comunale non solo della maggioranza ma anche della minoranza rispetto a delibere scomode che una volta firmate avrebbero comportato e in molti si sono tirati indietro in questo motivo, non hanno partecipato alle sedute, si sono fatti un po' indietro anche eventuali responsabilità di tipo contabile oltre che responsabilità politica, allora se uno si candida è chiaro che va incontro anche a queste difficoltà, dovrebbe saperlo nel momento in cui si presenta alle elezioni, lei com'è rimasto rispetto a questi atteggiamenti dal punto di vista umano e amministrativo, perché sono fatti che i colleghi hanno sempre molto documentato e su cui è facile leggere questo tipo di retroscena, che è quello che avviene in tutte le realtà in cui c'è uno scenario di dissesto. E soprattutto di responsabilità, giustamente come diceva lei, da un punto di vista umano per una persona come me che ha sempre messo il proprio volto su qualunque decisione, anche abbastanza forte, io ho gettato più volte il mio cuore oltre l'ostacolo per il bene della città e dell'amministrazione, in quel momento non inconscientemente, ma coscientemente responsabile delle cose e delle responsabilità a cui una mia dichiarazione, una mia firma avrebbero potuto portarmi anche da un punto di vista personale, diciamo che ritengo che chi è eletto, come diceva lei, a una carica pubblica, se non prende le proprie responsabilità farebbe bene a ripensare il suo ruolo. Purtroppo, non so che dirle direttore, ognuno deve parlare per se stesso. Io parlo in questa maniera non tanto come sindaco, ricordo che ho fatto anche cinque anni di consigliatura in minoranza e molte volte ho preso dei rimbrotti dal mio capogruppo perché pur non uscendo dall'aula al momento di una votazione, rimanevo lì e votavo contrario secondo il mio pensiero di quel momento. Quindi sono stato sempre coerente, credo che la coerenza e il coraggio debba far parte non solo del bagaglio umano di un politico ma di chiunque. Io ho preso sempre le mie responsabilità personali nei miei 42 anni di attività medica dove si trattava del bene più prezioso della persona, cioè la salute, figuriamoci se non mi prendo le mie responsabilità per problemi di tipo amministrativo. Bene, Arianna. Tra l'altro per poi rimpiazzare questi due assessori c'è stato anche un percorso accidentato. Ritiene che queste scelte fatte siano state in dolore per la sua coalizione di maggioranza o ritiene di dover dire qualcosa a qualcuno che magari aveva anche delle aspettative più o meno legittime? Allora partiamo dal presupposto, altrimenti sviamo subito il discorso dalla realtà che la la nomina di questi due assessori rientravano prettamente ed esclusivamente nella mia pertinenza. Pertanto avrei anche potuto prendere immediatamente queste decisioni senza dire nulla a nessuno, poiché non sono fatto in questa maniera, ho fatto delle lunghe riunioni per condividere con i gruppi politici. Alla fine di queste riunioni purtroppo non le ho verbalizzate, non le verbalizzo perché sono fiducioso nella schiettezza e bondà d'animo degli altri. Tutti mi hanno detto Sindaco noi vorremmo in questa maniera, però alla fine devi decidere tu. tutti i gruppi politici hanno terminato questi colloqui con me dicendomi queste parole, quindi incoraggiandomi e dandomi ancora di più l'assist ad una decisione che fosse conforme alle esigenze dell'amministrazione per competenza, dedizione al lavoro, empatia, capacità di lavorare in gruppo e quant'altro. Quindi poi, poiché qualche consigliere di maggioranza ha detto anche sui giornali che avrei preso questa decisione alla chetichella, io credo che anche le pietre della strada sapevano, perché l'avevo ribadito più volte sui giornali, che questa decisione sarebbe stata presa durante le feste natalizie, quindi tra Natale e Capodanno e tanto è stato. Quindi sia nel metodo che nel merito non c'è nessuna critica, non può esserci nessuna critica mossa al mio operato, che poi quando fai una cosa puoi scontentare, accontentare qualcuno e scontentare gli altri e nella logica dei fatti. Tornando al discorso più generale della mia maggioranza composita e variegata, ma è ovvio dottoressa che ci siano delle fibrillazioni, ci siano dei malcontenti, dei mugugni, ma il tutto si ricuce sempre, io lo sto dicendo da tre anni a questa parte, perché non sarà il primo di problema da affrontare insieme, non sarà neanche l'ultimo nei due anni che termineranno con la mia legislatura. È un problema di dialettica democratica, cioè in tutte le maggioranze non burgare, ma anche in quelle burgare ci sono discussioni, ma soprattutto nelle maggioranze a campo largo, le discussioni ci saranno sempre. Devo fare l'esempio di quello che sta succedendo a livello centrale, a livello romano, dove forse noi non sappiamo tutto quello che dovremmo sapere, ma probabilmente i toni ruvidi e quant'altro tra Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega ci rimbalzano dai telegiornali e quindi perché meravigliarsi di un mugugno nel comune di Chieti. Con alcuni consiglieri, con alcuni assessori si può rimanere crucciati per qualche giorno, poi si torna a mangiare insieme perché si capisce che il motivo per cui si è, tra virgolette, discusso o litigato non valeva la pena. Bene, allora noi ci fermiamo per l'ultima pausa, abbiamo ancora un quarto d'ora più o meno di trasmissione, e poi io credo che proseguiremo anche su domande di tipo politico, oltre che amministrativo, perché insomma abbiamo anche le regionali alle porte, molte domande, anche se il sindaco non è direttamente coinvolto, lui sorride magari per sua fortuna, però insomma sono inevitabili in questi giorni, linea alla regia. Allora, siamo tornati in studio, siamo con il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, stiamo parlando un po' anche della situazione delle coalizioni, della maggioranza e della minoranza in città e credo che, insomma, come sempre avviene, quando c'è un turno elettorale, peraltro così importante come quello delle regionali, le fibrillazioni della campagna elettorale si riflettono inevitabilmente anche con il comune che in teoria non c'entra nulla, però ci sono molti assessori, molti consiglieri che sono in campo per queste elezioni e quindi penso che Diego Ferrara guardi anche con un po' di preoccupazione a questi toni che si alzano e si alzeranno sempre di più fino al 10 marzo, poi magari come ha detto prima alla fine poi si va a cena insieme, però insomma ci sarà sicuramente qualche altro momento difficile. Però noi le chiediamo, lei per chi è del Partito Democratico, un esponente del PD scritto al Partito Democratico, lei prenderà parte attiva a questa campagna elettorale per qualcuno di questi candidati? Sì, certamente sì, sarò presente, sono stato già presente alla presentazione della candidatura dell'assessore Chiara Zappalorto, domani sarò presente alla candidatura del Presidente del Consiglio Comunale Luigi Febo, farò del mio meglio, farò il possibile per appoggiare i miei candidati o comunque i candidati che si presentano appunto con la bandiera del PD. E questo non farà piacere agli altri candidati della sua giunta però? Ma gli altri candidati, l'altro candidato è Manuel Pantalone che intanto si presenta con una lista civica però di appoggio al centro-sinistra. Io ovviamente gli auguro tanta fortuna di essere eletto perché è un ragazzo veramente brillante che ha in sé tutte le qualità per essere una personalità emergente, l'educazione, la competenza e le relazioni che ha, però ovviamente io non è che posso dare dieci voti Ma non ci può dare il voto disgiunto nelle regioni, non ricordiamo anche noi, si sceglie una lista, un uomo e una donna, quindi lei ha già fatto le sue sceglie. Io mi auguro che Manuel rientri perché ripeto lo merita ma anche e soprattutto perché si presenta con il centro-sinistra e questo per ritornare al discorso di prima delle maggioranze variegate, alla fine questo significa che la mia maggioranza ha quella dirittura ben precisa di centro-sinistra. Le faccio un'altra domanda poi la lascio davvero ad Arianna perché adesso mi sta incuriosendo la cosa. Ci sono candidati anche dei pezzi grossi nel centro-destra, rappresentanti del Consiglio Comunale o comunque figure importanti della città come Mauro Febbo in Forza Italia, con l'Antonio, Mario Colantonio nella Lega, tanto per fare un paio di nomi, poi insomma comunque anche Carla Di Biase, Fratelli d'Italia, insomma a Chieti ci sarà una grossa battaglia anche nel centro-destra per magari ottenere quella investitura a sfidarla tra due anni. Beh sì. Si prende più voti alle regionali, potrebbe essere l'Anti Ferrara? Beh suppongo, intanto bisogna vedere se io mi ricandido, intanto potrebbe essere un Anti... E la mia era una domanda a trabocchetto, non c'è caduto? No, non sono caduto. Potrebbe essere il candidato di centro-destra, potrebbe essere l'Anti qualcun altro. Da come si muove, da come parla, da come si agita, credo che l'attuale consigliere Mauro Febbo si stia dimostrando o accreditando come prossimo candidato a sindaco di Chieti. Non mi sfuggono assolutamente le sue punzecchiature sui social, su ogni cosa che io dico o che io faccia. Mi lascia assolutamente indifferente proprio perché io sono tranquillo con la mia coscienza e soprattutto perché perseguo nei limiti del mio possibile il bene della città. E credo, e credo che anche nel centro-destra si possano fare dei distinguo di personalità. Tipo il consigliere Mario Colantonio, un uomo di grande esperienza amministrativa, mai una parola fuori luogo, mai una parola fuori riga. Anche la consigliera Carla Di Biase, al di là delle arrabbiature che mi ha fatto prendere in consiglio comunale, ritengo che sia una persona competente e culturalmente di ottimo livello e quindi sicuramente degna di partecipare alla competizione. Ripeto, lei prima ha usato un termine, diceva di essere arrabbiato per i toni. Io non mi arrabbio, rimango deluso dai toni perché non mi appartengono i toni sovraeccitati, i toni che nascondono anche acrimonie e stigmi personali nei confronti degli altri. Comunque ritengo che chi di lama ferisce, di lama possa anche perire. Riproviamo a vedere sul discorso della candidatura se tiriamo fuori qualcosa. Sindaco, lei ha fatto una consigliatura veramente tutta in salita a partire dal Covid, la guerra, la crisi energetica dovuta alla guerra e poi il dissesto. E' per questo che non si vuole ricandidare? Dicevo, ho dato tutto, non si può fare altro? O non vorrebbe vedere le tante cose, i tanti semi messi per terra, seminati, crescere e diventare qualcosa? Guardi, anche qui la risposta non è univoca. Allora, intanto tantissimi di questi semi credo di riuscirli a vedere arrivati all'età adulta per la fine della consigliatura. Non si dimentichi che molti fondi ottenuti dal PNRR, sia per la rigenerazione urbana, sia per la qualità del vivere. Parlo, che so, di Piazza Garibaldi, i cui lavori nel 2024 inizieranno per la costruzione del parcheggio ipogeo. Le ristrutturazioni di Palazzo Massangeli, dell'ex cinema Eden, del super cinema che sono a step già avanzati. La ricostruzione della Scala Mobile entro dicembre 2024, la costruzione del multipiano in via Ciampoli e l'aumento dei posti macchina in piazza Falcone-Borsellino, cioè al terminal degli autobus e quant'altro. Queste sono cose che... Quell'ascensore che arriva a Piazza Barbella, fallita da prima che lì fosse... Perfetto, perfetto, perfetto. Ci può dare una scadenza? No, scadenze non gliele posso dare, ma se le vuole e se mi dà due minuti di tempo, le dico quali sono state le vicende che hanno condotto alla non riapertura finora, se vuole, altrimenti... Beh no, penso che i cittadini siano curiosi. Perfetto, perfetto. Allora, noi eravamo pronti ad aprirlo nel 2022, nel febbraio del 2022, dopo aver avuto tutte le autorizzazioni dall'Ustif, che era l'organismo di legittimazione della regione su tutta la parte tecnica dell'ascensore, avevamo fatto ripartire gli ingranaggi, perché è cosa importante. Ci siamo dovuti fermare perché? Perché l'ascensore e il tunnel fanno parte di un pacchetto unico appartenente anche ai parcheggi e di conseguenza Teatre Servizi, che ha avuto nel marzo del 2022 la notifica di fallimento, per la quale io ho dovuto poi nominare il liquidatore, il dottor Luca Di Orio, con tutte le vicende che si sono dipanate in questi anni, praticamente ci siamo dovuti bloccare. Ora, con il piano concordatario che Teatre Servizi sta portando avanti fino ad almeno martedì prossimo, 23 gennaio, quando ci sarà l'udienza finale da parte del giudice e del tribunale, ci sarà in questo piano concordatario prevista l'alienazione di due rami d'azienda di teatre servizi, i parcheggi con l'ascensore e i servizi cimiteriali. Bene, stiamo finendo di fare una indagine di mercato per vedere la possibilità, ma sicuramente ci sarà, di affidare i parcheggi e l'ascensore quindi a una società esterna che ne prenderà la gestione. Quindi i tempi potrebbero essere molto più rapidi di qua, perché l'ascensore funziona? Sì, sì, l'ascensore funziona, assolutamente funziona, deve essere oliata, rimessa in moto. Perché, se no, altrimenti i nostri telespettatori non comprendono perché stiamo parlando di un ascensore, perché quell'ascensore è funzionale proprio a una serie di parcheggi che sono importantissimi per la città, proprio nel momento in cui non funziona peraltro la scalamola. Ma guardi, lei pensi, immagini sono queste, io me lo immagino, me lo sogno la notte, ma non per me ma per i miei concittadini, lei pensi entro questo 2024 ad una piazza Falcone e Borsellino che aumenti di 120 posti di auto, di posti macchina, la scalamobile e il tunnel con l'ascensore. È una rivoluzione, sarà veramente una rivoluzione. Con i parcheggi di via Ciampoli e di piazza Garibaldi, per cui sia i cittadini che chi viene da fuori Chieti non avrà più problemi di parcheggiare la macchina e qui apro e chiudo una parentesi breve. Noi abbiamo messo tanti di cartelli perché ci dicevano che il parcheggio multipiano di via Papagiovanni non era ben pubblicizzato. Ci siamo adoperati per mettere cartelli ovunque per indicare questo parcheggio che voglio ricordare ai cittadini contiene 170 posti vuoti tutti i santi giorni. A questo multipiano di via Papagiovanni dall'uscita di questo parcheggio occorrono 5 minuti di orologio fatti da me, da una persona senza correre, quindi camminando tranquillamente attraverso i vicoli bellissimi di Chieti storica. Con 5 minuti stai al centro. Il problema è che bisogna parcheggiare, non solo non ci pensa, se ne dimentica ma si vuole parcheggiare davanti al negozio, si vuole parcheggiare davanti al bar. Poi volendo fare una battuta di cattivo gusto sicuramente vorrei dire piazza Garibaldi se non sprofonda perché lì c'è un problema che state affrontando e questo invece seriamente relativo al dissesto idrogeologico delle zone che sono a ridosso di quel versante di collina. A che punto siete? Allora, piazza Garibaldi non è proprio prospicende alla cosiddetta collina nord. Dove ci si erano aperte comunque delle voragini davanti al ristretto militare. Ma a Chieti la possibilità che si aprano voragini anche profonde improvvisamente è un dato di fatto perché tutti sanno che Chieti è un cunicolo, è un susseguirsi di cunicoli e di gallerie. Lei pensi che quando l'anno scorso si è formata improvvisamente la voragine alla sommità di via Arenazze, gli uomini dello Speleo Club che si sono calati per verificarne e valutarne la profondità e la lunghezza sono riusciti, riemersi a praticamente in vicinanza dell'ufficio postale di Santa Maria. Tanto per dire una cosa, Chieti è fatta così, ma per quanto riguarda piazza Garibaldi abbiamo già fatto tutti gli studi sia di archeologia preventiva e sia di carotaggio strumentale per verificare se ci fossero problemi. Non ce ne sono e di conseguenza essendo arrivati al progetto esecutivo e definitivo credo che a breve si comincerà a fare la gara e quindi penso che per l'autunno cominceranno i lavori. Bene, Arianna, le ultime due domande. A questo punto invece per le frane della zona di Santa Maria, là c'è anche il viadotto, le scuole che sono state chiusi. Allora, il problema del dissesto idrogeologico a Chieti, come tutti sanno, è noto da decenni. Negli ultimi anni, più o meno inspiegabilmente, perché non ci sono state manifestazioni estreme climatologiche, tranne se vogliamo inserirle in questo novero, le piogge torrenziali di maggio 2023, però inspiegabilmente c'è stato un scivolamento di questa parte collinare, di questa zona di Chieti che ci ha molto allarmato rendendo instabili molti palazzi e molte strutture. Devo dire che in questo caso non voglio lodarmi eccessivamente, però la intuizione ad agosto del 2022 di prendere contatti con la protezione civile regionale e nazionale e con l'Istituto di Geologia dell'Università Gabriele D'Annunzio, mi hanno permesso di poter sinergizzare le forze poche del Comune nel monitoraggio di questa zona. Noi lì abbiamo piantato, insieme con la protezione civile e con l'Università, centinaia di inclinometri, di impedenzometri, riprendiamo le immagini della zona con il satellite Copernicus e tutto ciò ci è servito proprio a fine maggio 2023 a renderci conto della pericolosità diretta e indiretta delle due scuole, la scuola Corradi e la Modesto della Porta e la possibilità di fare un'ordinanza di sgombero. Da premettere, tutte le ordinanze di sgombero che il Sindaco fa, le fa in base ad una relazione tecnica precisa e inoppugnabile che passa proprio attraverso l'egida e il controllo della protezione civile, dei nostri uffici tecnici e dell'Università. Quindi quando i cittadini di un palazzo devono andare via, se la possono prendere benissimo con me, non è un problema, però tengano conto che la mia ordinanza e la mia firma è una firma ponderata e decisa unitariamente con tutti gli attori precisi del caso. Bene, ultima, ultimissima. Ultima, torno proprio a monte di questa trasmissione, abbiamo detto del dissesto e questo è il primo anno con il dissesto, Sindaco, che estate sarà ai teatini? Che cosa potete offrire? Guardi, io devo intanto ringraziare il mio assessore alla cultura, il vice sindaco De Cesare, perché nonostante le restrizioni è riuscito sempre attraverso un sistema non solo collaudato di sponsorizzazioni, ma anche implementato di offerte, in questo caso a non far eccessivamente soffrire la cittadinanza di mancanza di manifestazioni. Per cui io sono certissimo che come è stato per quest'estate, anche per l'estate prossima avremo eventi importanti e gli ho chiesto già che uno di questi eventi importanti, un bel concertone, una bella manifestazione, si faccia nella rinnovata Piazza San Giustino. Benissimo. Ricordiamo anche Piazza San Giustino che è stata la grande novità a Chieti di questo 2023 che si è appena concluso, assieme a una, e questo lo diciamo noi di Rete 8, che l'abbiamo seguito molto da vicino, una straordinaria stagione lirica al Maruccino che peraltro prosegue con una stagione di prosa già tutto esaurita e questo è veramente uno dei grandissimi meriti della città di Chieti nel suo complesso. Bene, io ringrazio Arianna Iannotti per chi si fosse messo in visione, in ascolto soltanto ora della nostra trasmissione. Diciamo che domani si sarà sul quotidiano il centro, un ampio risalto a questo nostro incontro a cui sono venute fuori anche, oltre che delle riflessioni, alcune interessanti notizie. Grazie a Sindaco, in bocca al lupo naturalmente, perché ho bisogno di un certo incoraggiamento ulteriore in questo periodo, vista la situazione del Comune e grazie soprattutto ai nostri telespettatori. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS